Il caso di Anthony Aliano, consigliere comunale di Forza Italia nel comune di Montesilvano, è diventato caso diplomatico. Una lite tra lui e un cittadino straniero, dai toni particolarmente accesi, ha suscitato reazioni polemiche dopo che lo stesso consigliere ne aveva fatto motivo di sfogo su Facebook. E' addirittura intervenuto il ministro degli esteri rumeno che chiede che il governo italiano prenda provvedimenti nei confronti del consigliere per comportamento bollato come razzista. Anche se, ascoltando Anthony Aliano, scopriamo come egli non sia nemmeno certo della nazionalità. Cose che succedono tutti i giorni. Un alterco per un problema stradale che purtroppo mi ha costretto a difendermi nulla di più. Per questa difesa, probabilmente anche perché scosso, ho ritenuto di condividere con dei miei amici di Facebook, ma nulla di più. Non sono sicuramente razzista, non è stato un gesto di questo genere. Prova ne è che ho fidato l'educazione dei miei figli ad una insegnante ottima, direi, rumena. Quindi, insomma, lungi da me, dall'essere tacciato di razzismo, dal volerlo essere. Non so neppure se fosse, tra l'altro, rumeno, quindi. Ridimensionando la portata dell'accaduto, Anthony Aliano rammenta che non è la prima volta che questo ministro rumeno si rende protagonista di interventi come questo. Questo è un fuoco di paglia. Purtroppo è un problema che già era sorto negli anni precedenti. Ricordo, ad esempio, delle accuse di xenofobia rivolte al governo Berlusconi nel 2009 dallo stesso ministro degli esteri. Quindi stiamo parlando veramente di molto rumore per nulla. Il consigliere di Forza Italia non ha gradito l'intervento del sindaco Maragno e nemmeno quello di altri esponenti politici del suo partito. Il sindaco ha perso l'occasione per tacere, una volta ancora. Ha dimostrato quello che vale perché invece di contattare il sottoscritto ha pensato bene di rilasciare delle dichiarazioni evidentemente strumentalizzando l'accaduto. In realtà avrebbe dovuto con molta personalità minimizzare. Purtroppo sia lui sia il coordinatore del partito hanno pensato bene di spettacolarizzare l'evento a proprio piacimento. Sulla vicenda è intervenuto anche il senatore Razzi che del consigliere ha chiesto le dimissioni. Il senatore Razzi credo che risponda a crozza e basti ed avanzi quello che dice lui del senatore Razzi. Approfitto tra l'altro la circostanza in realtà per ringraziare le numerose persone rumene ed italiane e non solo che hanno voluto manifestarmi solidarietà e ringraziare tra l'altro il PD locale di Montesilvano e l'ex sindaco Attilio di Mattia per la loro onestà intellettuale. Grazie a tutti.